musica 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 io vedo uno strano movimento dalla mattina alla sera risa, pasta bianca, olio burro, fagioli tangerite tanta volta che non è roba mia ma portano qua e facciano piacere a qualche conoscente oh, sanno tutti quanti che sono nasconde una roba che sono bene nel mercato nero e cos'altro vendete? Puro zucchero? no, quella è finita, mi dispiace e che ricco musica musica allora perché si fanno le guerre? per rubarsi la roba papà ve l'avessero mangiato voi questi non erano i miei questi rubare, che parola grossa non è pericoloso pericoloso è la fama io non vendo niente a nessuno faccio da tramite però ti paga il servizio chi? ecco io, oggi è bello no non volessi sapere perché ti metti sempre in mezzo al cocco qua è un mese che ci stanno i bombardamenti papà! Carmè avete visto papà? questi ci fanno cadere come mele dall'albero la penicellina mi prego ditemi che la tenete questo medicinale non lo conosco sentite io sassi come finzio quando sparì a Genare per poi rivenderli a raddoppiati che è successo? che è successo Genare ti voglio ti pensa ti chiamo ti vedi che ti senti ti senti ti sonno ti senti te senti i a da ti senti ti senti